Quando si fanno queste valutazioni più prima della gara, poi alla fine non va mai così. Io pensavo che l'Urezzo sarebbe riuscito nei primi giri a stare davanti, ma ero abbastanza tranquillo, perché sapevo che oggi faceva pratica andavano via. Però sai, quando il mio meccanico mi ha detto così, ho detto proviamo, sono partito bene, sono partito la prima cura bene e subito ho sentito che prendevo un po'. E quindi da lì ho detto, visto che ci siamo, facciamo così, anche perché arrivare all'ultima cura tutti insieme sarebbe stato pericoloso, secondo me. Chi fa la prima domanda? Io ce la volendo. No, aspetta, prima una considerazione piccola che il tuo...